Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge costituzionale nel suo complesso. Dichiaro aperta la votazione. Avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 231, votanti 230, maggioranza 161, favorevoli 180, contrari 50, astenuti 0, il Senato approva. Grazie. Ha chiesto di parlare il Senatore Pagano, ne ha facoltà. Sì, grazie, grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire, cari colleghi, cari colleghi ho chiesto di intervenire perché...